Fondi Ars Cannata, Fratelli d'Italia sul caso Uteri, bisogna agire con correttezza, condanno ogni forma di violenza. Un politico deve sempre essere al di sopra di ogni sospetto e al dovere di agire con trasparenza spiegando ogni questione che lo riguarda sul piano pubblico. Per questo motivo è apprezzata la decisione di Carla Uteri di autosospendersi dal partito, dal gruppo di Fratelli d'Italia, con l'auspicio che riesca a dimostrare la sua estranità alle inchieste e alle accuse mediatiche che lo hanno coinvolto in questi giorni. Lo dichiara Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera per Fratelli d'Italia, che esprime piena solidarietà al parlamentare regionale Ismaele Lavardera, come già fatto dal presidente dell'Ars Gaetano Calvagno e dal capogruppo Giorgio Assenza. Condanniamo senza riservi ogni forma di violenza o minaccia, prosegue Cannata, riaffermando la necessità di un confronto politico che sia sempre rispettoso, costruttivo e moralmente corretto. Prendiamo le distanze da qualsiasi comportamento inopportuno o contrario ai principi che ispirano la nostra azione politica. Continuiamo a portare avanti i nostri valori con impegno e responsabilità al servizio del Paese. Conclude l'onorevole Luca Cannata.